Sì, c'era anche un pomeriggio, vabbè, vabbè, quando ero ai Regioni, credo... Ah, vengono dietro? Vengono dietro, sì? Vengono dietro perché io le do il latte con la bottiglia. Ah, loro sanno che vengono dietro da lei. Ma quindi, guarda come saltano, ma quindi le ha anche nominati o no? No, no. E' quello delle pecore che sono con i gattelin, allora lui, perché la pecora generalmente dà da bere solo a uno, sono rare le pecore che dà a due. Allora loro ti danno chi vuole, se no muoiono. Ah, sente che lei gli dà il latte, eh? Sì, sì. E quindi non hanno paura delle persone? No, no. E quanto hanno questi qui? Quanto tempo? Sì, avranno 10-12 giorni. Urca, sono nati proprio pochi giorni fa. E quanti ne sono nati? Oh, quelli hanno 1500 pecore, immaginarsi quanti. Allora questo mi dà ogni anno un po' di agnelli, quelli che sono in più a loro, perché loro non hanno tempo di dar col ciuccio a contanti. Allora me li porta a quelli che sono in più, che se no muoiono. Ho capito, quindi lei li salva. Allora io ho il latte delle capre e le do agnelli. E li facciamo vedere fuori e vengono sull'erba qua. Vieni, 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 vieni. Ciao, ciao, ciao. È un fuori orario questo. Eh sì. Ah, perché di solito a che ora vengono a prendere il latte? A che ora lo prendono il latte? Non la mattina. Eh, sarà un'ora che le ho date per quello che non vengono. Ah, sono già sazi. Eh, quindi non hanno... E il cane fa già... Eh, il cane a quelli piccoli non fa niente. Se io mando le capre, che lo mando, le manda giù. E invece questi qui li lascia tranquilli? Li lascia tranquilli perché sono piccoli. È delicato, insomma. È geloso, è geloso, non è cattivo. È geloso perché... Ah, se lei sta dietro le pecore, il cane è geloso? Vai, vai. Vai. Ma questi sono tutti coetanei? Come mai ce n'è qualcuno di più piccolino? C'è un giorno, due in meno? Il più piccolino qui. Questo è qualche settimana in più. E quello l'ha portato, che era appena nato. Ah. Poi dipende, magari fa due o tre. E quindi quanto li tiene lei questi qui? Ma io li tengo anche due mesi, due o tre mesi. Ah. E dopo cosa succede? Li vengono a riprendere? E poi succede che... Qualcaduno mette un pentolo per me. E fa che uno vengono. E il giro è così. Eh sì. Non ci si affeziona? Eh. Non ci si affeziona Enrico, no? Io ne avrei... Avrei chi sa quanti che avete qua. Quando fanno le capre, se dovevi di tenerli tutti. Qualche anno avevo una quarantina, e voglio in trent'anni. Eh sì. Era bel faruna le sacchine, belle sacchine. Vanno là a bere, è del rubinetto dell'acqua là. Non vogliono mica bere... Vanno là a bere l'acqua che mi dico. Ah sì? Sì. Eh non vogliono quella stagnante, vogliono acqua fresca. Eh bisogna. Si mette a me in casa? Eh sì. 9-10 figli. Il maschio pulito, 24 figli. Però? Lui. Questi qua, tra due mesi, fanno più di 20 figli. Sì ma mangiano, muoio, focano, ohhhh. Perfumano con l'acqua qua, cosa... E' un pasticcio. Sì. Fa qualche cosa di pasticcio. E' un altro bambino, è passione a quel bambino. Eh, ho visto che gli andavano dietro eh. Ah vabbè, rimane già tra tutti. Eh sì. E' un altro bambino, è passione a quel 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 bambino. Grazie a tutti